La bellissima attrice ci ha lasciato poche ore fa, rappresentando un'icona memorabile che ha segnato la storia del cinema italiano. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire chi ci ha lasciati, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Un improvviso colpo di fulmine ha scosso il cielo della cinematografia italiana con la scomparsa di questa leggendaria artista, nota anche per la sua straordinaria bellezza. All'età di 92 anni, Dana Ghia ci lascia come un'icona assoluta di grazia e fascino, contando tra le donne italiane più affascinanti di tutti i tempi. La sua presenza ha illuminato schermi con la sua partecipazione a film celebri e cruciali, tra cui spiccano titoli come California, Il Desperado, continuavano a chiamarlo Trinità e oggi è te, domani a me. Negli anni 60 e 70, ha conquistato un enorme successo e una popolarità senza pari. Oggi ricordiamo con affetto una delle attrici italiane più belle di sempre, Dana Ghia, scomparsa nelle ultime ore all'età di 92 anni. Ti invitiamo a lasciare un commento sotto il video in ricordo di questa attrice e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video, a presto con un nuovo contenuto.